È stato approvato dall'Aggiunta il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola primaria Beato Dorico, che sorgerà in Via Piave al posto di quella attuale. Si tratta di una scuola che andrà a completare l'intervento di riqualificazione urbana del quartiere di Torre, secondo le esigenze del territorio. L'ingresso dell'edificio scolastico vedrà un ampio spazio su Via Piave, dove bambini e genitori potranno interagire. Dentro la scuola invece si potranno trovare numerose piazzette che favoriranno le attività e momenti di aggregazione. Vi sarà poi un grande giardino circondato da alberi con aree verdi funzionali. Gli spazi interni accoglieranno 244 alunni, 12 aule didattiche, 4 aule per bisogni educativi speciali, una sala docente, 4 laboratori e una biblioteca. È un'opera da 5 milioni e mezzo di euro, finanziata con fondi ministeriali. Si tratta adesso di organizzare il bando di gara perché dovrà essere aggiudicata l'appalto entro il 30 settembre. Partiranno poi i lavori e i bambini della Beato Dorico verranno sistemati e allocati provvisoriamente durante i lavori nel prefabbricato di Via Peruzza che ha già ospitato per un anno i bambini della Narvesa che invece torneranno nella loro scuola. Come amministrazione ci siamo sempre interrogati su come dare servizi migliori alla città e come darli soprattutto a quelle frange più fragili come le famiglie che devono conciliare tempi di lavoro e tempi appunto per i propri figli. Una delle risposte è sicuramente quella di migliorare complessivamente il patrimonio edilizio di scuole, di asile. Abbiamo fatti tante e continuiamo a farlo. In questo caso la Beato Dorico che ha problemi, è un edificio energivoro sismicamente poco sicuro, che non ha spazi adeguati e neppure un'area verde dignitosa. Grazie a questo investimento importante, la capacità di relazione del comune con il governo, abbiamo ricevuto 5 milioni di euro, avremo una scuola completamente nuova. Qualcuno lamenta il fatto che non si ristruttura, beh ma la spiegazione è facile. Uno, i fondi privilegiano i comuni che vogliono adottare strutture nuove, quindi con tutti i criteri edilizi moderni che garantiscono sicurezza e salubrità. E il secondo è perché se uno è affezionato alla propria 127, beh sicuramente potrà farsi mettere al meccanico l'area condizionata e migliorare le sue performance, ma quando se le va nella macchina dell'Amico nuova si darà conto che sicurezza e prestazioni sono profondamente diverse. Quindi da un lato c'è la nostalgia comprensibile, dall'altro lato il sacrosanto diritto di genitori e famiglie insegnanti a stare in un luogo moderno, bello, efficiente e sicuro.